Gentili lettrici e gentili lettori, buonasera. Per la serie Le Interviste di Oran.net, sempre con voi il vostro direttore Fabrizio Noto e oggi, come potete subito vedere dallo schermo, Nembo Kid, il più grande fromboliere del basket azzurro al secolo, Antonello Riva. Buonasera Antonello. Buonasera a voi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Bene, la nostra radazione questa sera è un po' alla spicciolata, stiamo cercando, come potete ben immaginare, per fortuna questa fase 2 sta andando bene, quindi la gente ha ripreso a lavorare il sottoscritto probabilmente della settimana prossima. Quindi arriviamo un po' alla spicciolata, ma ci siamo, abbiamo un binomio di primo livello come Luciano Pizzi. Buonasera Luciano. Buonasera a te direttore, buonasera Antonello, buonasera. E soprattutto Gabriele, coach Gab Marini, buonasera Gabriele. Buonasera direttore, a tutti i nostri ascoltatori benvenuti, guardate un po' chi abbiamo qui, Antonello Riva, non ci credevate, pure c'è. Insomma, prima di cominciare con Antonello Riva, volevo ricordare che dal lunedì 18 maggio, ma virtualmente anche fin da adesso, siccome All Around sta perorando la causa dei 100 anni della FIP, abbiamo lanciato un'idea che pensiamo sia bella, di mandarci all'edilizzo 100basketchiocciolaoltratinoround.net i vostri racconti sul basket. Cioè noi vogliamo fare un crowd, come viene chiamato, un crowd written book, scritto da voi, che noi pubblicheremo e che poi potremo dare nell'edicole, e ci direte cosa vi ha più emozionato, che cosa vi ha più entusiasmato con i dieci capitoli che presenteremo nella settimana prossima. Ma bando alle cianci, Antonello, allora, io sono particolarmente emozionato perché essendo anch'io dall'inizio 60, come nascita, sono cresciuto, essendo anch'io una guardia tiratrice, non come te ovviamente, io mi ispiravo, diciamo, pateticamente al tuo modo di giocare straordinario. Bene, dacci un breve incipit di come hai cominciato a giocare, che cosa ti ha spinto a cominciare a giocare a basket? Ma guarda, sembra strano, ma ho iniziato davvero per caso, perché frequentavo la quinta elementare e allora c'erano i giochi, i famosi giochi della gioventù, e dovevi fare tre specialità, cose che mi sembra che adesso non ci siano più, però vabbè, non è quello. Vabbè, lo so perdo, lo so perdo. Puoi immaginare l'altezza, quindi mi fecero fare salto in alto, vabbè, poi non mi ricordo se corsa a campesto o qualcosa del genere, e basket, perché era d'obbligo. E poi da lì, insieme ai miei coetani, scattò questa scintilla, perché poi fortunatamente nel paese a Rovagnate c'era un campetto all'oratorio, e quindi abbiamo iniziato a passare i pomeriggi assieme a tirare a canestro. Quindi è nato proprio così, per caso, in maniera, direi, spontanea. Bene, passo la palla a questo punto a Luciano Pizzi. Vai, Luciano. Eccomi, allora, diciamo che Antonello è uno che ci ha fatto prima addolorare a noi tifosi di Milano, e poi, infatti, anche gioire con il suo passaggio. Volevo parlare appunto di questo suo passaggio, di come è stato vissuto, contando anche le rivalità tra le due città. Ma, guarda, sai che a Cantù io avevo sempre avuto come dirigente Lello Morbelli, che mi sembra un paio d'anni, o forse erano già tre o quattro anni prima di questo trasferimento, e la sera avevo fatto il passaggio da Cantù a Milano, nella dirigenza di Milano. Proprio perché, sai, Cantù continuava a vincere coppe internazionali, e Milano era in difficoltà invece a livello internazionale. E quindi, ecco, questo perché avevo sempre avuto, era stato il mio secondo padre. Io, quando andai a Cantù, Morbelli fu mio padre, mi fece le parti di mio padre. E quindi ero sempre in contatto con lui, cioè, voglio dire, ci sentivamo spesso e volentieri. E devo dire che nell'89, per me, fu un anno strepitoso, perché avevo fatto 30,5 punti di media partita. Ebbè, sì. E quindi, sentendoci durante l'anno, lui ogni tanto mi punzecchiava, mi diceva, ma che ne diresti di venire a Milano? E ho detto, guarda, cioè, io sto bene a Cantù, sono nato a Cantù, tutte quelle... E quindi, ecco, i buoni uffici, diciamo, con Raffaele Morbelli mi permissero questo passaggio. Però poi, proprio in queste ultime settimane, ho incontrato settimane e mesi, perché ormai sono due mesi che siamo rinchiusi in casa, parlando con Re Calcati a una cerimonia, e mi disse, ma tu lo sai che Cantù ti aveva già ceduto a Verona? Questa io non lo sapevo, perché... Mi ricordo benissimo, io ero in raduno con la Nazionale, perché nell'89 c'erano gli europei a Zagabria, e 24 ore prima della chiusura del mercato, viene l'allora dirigente Corsolini e mi dice, Antonello, guarda, il contratto che tu ci hai richiesto, cosa che per due mesi mi hanno detto, ma sì, dai, l'accordo lo troveremo, non preoccuparti. A 24 ore della chiusura del mercato, Corsolini si presenta a Montecatini e mi dice, guarda, ci sono due squadre che ti vogliono, comunque, stai tranquillo, c'è Milano e Verona, che però Verona allora militava ancora nel campionato di Lega 2, quindi sfido voi a quale spada avreste... Però poi Verona, scusa, Mentonello fece una crescita spaventosa con Jack Alanda, con Davide Bonora, quindi, insomma, era uno squadre... Con Davide Guiglia, ma anzi, divenne ha vissuto anni d'oro poi in Verona, vero? Poi io rifiutai, pensa che mi chiamò il povero Bucci, che è scomparso da non molto, una persona veramente squisita, mi chiamò e mi disse, guarda, allora era Vicenzi il proprietario di... Guarda, Vicenzi ha pronto un contratto in bianco, quindi tu puoi scrivere tutto quello che vuoi. Però Milano veniva da dieci anni di finale Scudetto, era qualificata, aveva battuto Livorno, vi ricordate quella famosa... Eh, la famosa... Con quel canestro che ancora oggi... Non si sa... E dove aveva la partecipazione, quindi alla Coppa dei Campioni, quindi una scelta... Una scelta non scelta, nel senso che era obbligatorio. Certo. Chiamato anche a proseguire un'eredità pesante nell'ambiente milanese da quella di Primera, soprattutto. Sì, infatti, non fu semplicissimo, devo dire, perché... Questo passaggio, no? Perché sapevo, no? Che Roberto era nei cuori della tifoseria milanese, a parte le vittorie degli anni precedenti, ma Roberto personificava un po', no? Lo spirito dell'Olimpia, no? Era un irruente, quindi era un giocatore molto amato dal pubblico. Quindi, però poi dopo, dai, le mie prestazioni hanno rinconciliato un po' l'idea dei tifosi. Anche se qualche cosa è mancato, eh, forse? Ma sai, ne parlavo l'altro giorno con Giorgiovic, che ci siamo... Poi c'era anche Pizzi. Se abbia fatto un gruppetto proprio di ex milanesi, ci siamo trovati per una birra online. No, guarda, c'è stato... Vabbè, quella finale con Caserta, che noi quell'anno avevamo vinto tutte le partite in casa e perdemmo la quinta con Caserta. Tanto di cappello a Caserta, perché fecero una partita strepitosa. Escusa, Intonello, quell'anno voi l'avete eliminato in semifinale a Roma il messaggero e si hanno vaderrato ed era proprio l'alba del forum si hanno vaderrato. Bravissimo. Esatto, ma sempre che me lo ricordo, perché gara 1 di semifinale io venni col pullman del messaggero a Vistos Roma, al forum, e venni a vedere questa partita dove voi avete massacrato effettivamente il messaggero, che era una squadra estremamente forte, con Premier, che era crevuto a Roma, e gara 2 voi l'avete vinta qui al palo automatico al palo automatico denso, proprio c'era tantissima gente, con il cubo, se ti ricordi, che va in tilt e quindi con la segnalazione dei falli del punteggio al tavolo. Non so se te lo ricordi. No, questa cosa non me la ricordo io. E tu hai fatto un primo tempo strepitoso, dove praticamente voi siete andati avanti e poi Roma non è più riuscito ad entrare in gara. Scusami per la chiosa. No, no, ma è vero, quell'anno eravamo davvero, avevamo uno spirito di squadra, abbiamo trovato una magma, cioè, pur non essendo probabilmente una delle più forti squadre, ma giocavamo bene, Mike D'Antoni era diventato allenatore, quindi c'era proprio un feeling incredibile. Ecco, quindi per dire quello che ti riferivi, i miei anni a Milano c'è stata quella malaugurata, sconfitta, che però non c'è tanto di capello. E poi guarda, soprattutto che forse brucia ancora di più l'anno di Antonio Davis e Sasha Giorgiovic, noi, guarda, non vorrei sbagliarmi, ma avevamo vinto le nove o dieci partite dall'ultima parte della prima fase, dalla fase della stagione regolare, l'ultimo minuto a metà campo Antonio Davis, eravamo avanti a Bologna, va per rubare un pallone e si rompe un dito. E allora non è come adesso non si poteva non si poteva modificare l'organico, e quindi poi dopo venimmo eliminati da Pesaro alla terza partita di un punto. Cioè quella era una squadra per me che avremmo vinto lo scudetto a mani basse. Però capisci, vedi, come poi dopo da lì è stato importante perché la non partecipazione alla Coppa dei Campioni Milano ha dovuto decise di cedere Pittis, quindi cambiò veramente la storia. Sledding doors proprio. potevano essere due scudetti vinti ma per piccoli particolari la storia oggi si ricorda di una di un evento o di eventi differenti. Vero, vero. Gab. Sì, no, io chiederei ad Antonello visto che i maggiori giocatori più talentuosi quelli che hanno se vogliamo più punti nelle mani sono tendenzialmente forse è una storia che ce lo racconta ma comunque è una vulgata sono tendenzialmente parte diversa da tutta la squadra e soprattutto dall'allenatore. Ora io non so se questo è il caso che ti ti si addice però la curiosità mia è questa durante la tua formidabile carriera che rapporto hai avuto con gli allenatori sei sempre stato quello sopra ma non per importanza diciamo per capacità ecco di interpretare il basket o ti sei adeguato sempre alla squadra e quindi all'allenatore questa domanda lo so è un po' subdola se vogliamo però in questi ultimi giorni stiamo vedendo tutti quanti The Last Dance insomma Jordan eccetera scusami se ti ho associato a Jordan questa domanda però io voglio sapere se te durante la tua carriera hai fatto di testa tua e cavolo quanto hai fatto bene oppure ti sei sempre adeguato nei binari dei tuoi coach guarda si potremmo fare un discorso che dura tutta la trasmissione cercherò di essere il più prima di tutto devo sottolineare che ho avuto la fortuna nella mia carriera di avere grandi allenatori io devo molto a Valerio Bianchini perché è stato quello che ha avuto il coraggio di lanciarmi in prima squadra di darmi tanto spazio quando ero ancora veramente molto giovane quindi ecco con Valerio ho avuto subito un rapporto veramente incredibile cioè lui era veramente bravo nel stimolar nel suscitare dei grandi stimoli in ogni momento della stagione quindi devo dire lui poi con Re Calcati forse è stato poi senza trascurare Giancarlo I che veniva dalla Nazionale Gianni Asti però ecco poi con Re Calcati ho vissuto cinque anni che c'è stata la grande maturazione mi ha trasmesso molto della sua tranquillità poi ho riavuto Bianchini Frates Gamba in Nazionale è vero io il tiratore è un solista però deve essere sempre naturalmente inserito in un in un contesto di squadra quindi devo dire che la mia parte la mia prima parte di carriera a Cantù la squadra era sempre costruita un po' attorno alle mie caratteristiche perché non so mi vengono in mente Bosa Bariviera per dire due nomi anche lo stesso Dan Gay non erano poi quando gli anni di Jim Brewer cioè venivo attorniato da giocatori che non erano dei grandi realizzatori che non avevano grandi attitudini c'era CJ Kubek con le sue bombe dagli angoli è vero no no poi certamente perché la squadra non è fatta di un solo attaccante io adesso ho detto Bosa ma Bosa è un signor giocatore cioè che i suoi 15 punti a partita ragazzi tanta roba averlo oggi come Bosa però bello per venire a dire che sino all'89 di sicuro la squadra era costruita attorno alle mie caratteristiche quindi era facile anche rispondere un po' a ciò che l'allenatore mi chiedeva perché la squadra ecco tutto era improntato sulle mie caratteristiche poi ci stiamo scordando che c'era al fianco c'era un playmate che si chiamava Marzorati quindi voglio dire Pierluigi Marzorati Poi a Milano devo dire un anno eravamo sei esterni adesso non mi chiedere i nomi di tutti e sei però eravamo tutti di un livello veramente altissimo Giorgi Vigio Pitti San Brassa Portalupe insomma tutti potevamo giocare tranquillamente in quintetto base e quindi lì ho portato la mia grande fisicità quindi l'ho portata a servizio della squadra soprattutto anche in fase difensiva perché avevo capito che se sfruttavo questa caratteristica potevo stare in campo più a lungo e a me con la mia fisicità mi piaceva naturalmente c'era un ritmo completamente differente da quello odierno però mi piaceva stare in campo tanti minuti e quindi ecco sì ho sempre cercato di portare per chiusare un po' il discorso dire ho sempre ascoltato sicuramente l'allenatore però non ho mai non mi sono mai fatto così imbrigliare sul mio il cavallo di razza il cavallo di razza non si fa imbrigliare questo è il senso esatto anche anche se poi so ad esempio mi ricordo Valerio non mi ricordo più quale fosse la partita però me lo ricordo ancora oggi che a un time out verso la fine della partita gli dissi ma no Cauri la palla me l'ha data a me quindi mi ha messo in panchina cioè mancavano mi ricordo va bene ok tu adesso ti siedi che puoi Valerio però lì trasmise questa cosa che che fu una lezione non solo per me ma per tutta la squadra che comunque i dettami li veniva venivano dati dall'allenatore Cettonello io comunque è sicuramente non sei stato sei stato fondamentalmente in tre squadre quindi parliamo sia di Cantù poi Milano due anni a Pesaro però insomma sono queste tre le tre squadre in cui vieni riconosciuto poi la maglia azzurra e ma non dico nulla di male se dico che comunque gli anni migliori della tua della tua prolificità e anche delle vittorie sia stato Cantù che campionati Coppa dei Campioni le due coppie di campioni di seguito la Coppa Intercontinentale dammi una uno spaccato del primo campionato e della prima e della prima storica Coppa dei Campioni vinta se non ricordo male contro il il Maccapi vero? si guarda tu hai toccato penso perché quando mi chiedono soprattutto qual è stata la vittoria il momento più bello della tua carriera è naturale dire quello che hai appena detto tutte le vittorie lo scudetto le coppie dei campioni però devo dire che Cantù come avevo detto prima veniva da ogni anno a una partecipazione anzi quasi sempre a una vittoria nelle manifestazioni europee aveva vinto tutto tutte le coppie la Corac la Saporpa le coppie intercontinentali insomma come la Pus Roma insomma via io la butto così vai e però non aveva mai vinto la Coppa dei Campioni perché in quegli anni ti ricordi giocava partecipare alla Coppa dei Campioni solo la squadra che aveva vinto lo scudetto il campionato e la detentrice quello che permise l'anno successivo a quella finale che non era mai avvenuta tra noi e Milano di due squadre italiane la prima volta nella storia del nostro basket come fu la prima volta nella storia del nostro basket certo penso che poi con i tempi moderni sarà dura e difficile vedere rivedere due squadre speriamo ce lo auguriamo però penso che sia un pochino e quindi quell'anno quando vincemo la Coppa dei Campioni per me è stato l'anno più bello perché dal primo secondo del ritiro sino a quella vittoria tutte le nostre forze erano improntate a guarda allora ti do ti do ti do comunque una chicca qualche anno fa anzi tanti anni fa per ragioni professionali ho avuto la grande fortuna di incocciare a Roma tale Miki Bergovic allora io mi sono avvicinato è Greth Player lui cioè contentissimo molto ma molto ma molto civile educato una persona squisita e io gli feci la domanda ma togli un'unica curiosità quella finale contro Cantù ma che cosa avete sbagliato perché effettivamente Cantù era un po' era l'underdog era quello svantaggiato il Maccabi col popolo dietro con questa barea gialla c'era Oesti il primo che mi viene in mente poi c'era pure Bergovic e lui disse non siamo riusciti a contenere Antonello Riva lui lo ha detto spassionatamente una grande prestazione un grande giocatore guarda io iniziai abbastanza male quella partita perché al primo tempo proprio perché Bergovic nell'europeo precedente era stato votato miglior giocatore dell'europeo quindi era veramente la guardia europea insieme a c'era un'era di Dio in quel periodo Bergovic esatto quindi con la partita poi mi ricordo quando entrammo in campo ci attendavamo questa marea gialla ma non così perché veramente c'erano non so penso 200 canturini e poi 4.800 5.000 israeliani era giallo il palazzo era giallo quindi lo subì un po' vabbè l'importanza ero giovanissimo avevo 20 anni l'importanza della partita il giocare contro un avversario così importante insomma e vedere questa marea feci fatica a metabolizzare un po' tutte le cose però ecco lì fu grande Valerio perché mi permise innanzitutto di stare tanto in campo di rompere il ghiaccio e poi nel secondo tempo veramente ho fatto un secondo tempo incredibile proprio probabilmente dopo aver rotto il ghiaccio sono riuscito a giocare tranquillamente senza pensare a tutto tutto questo però non è facile perché tra l'altro può essere assolutamente quindi quella fu veramente la partita più bella più più grande perché ecco portare in Italia portare a Canzun all'oro che non aveva mai riuscito a raggiungere è stata veramente una grande se non ricordo male con l'ultima bomba di Kupec proprio dall'angolo che ha suggellato anche io sono di Catanzaro però vivo a Roma ormai da anni e seguivo con simpatia le geste di Cantor Luciano vai tornavamo invece appunto sempre in Coppa Campioni a un altro slide indoor appunto come mi piace sempre dire che è quello della finale dell'anno dopo quando la finale l'anno dopo che ha fatto tanto male forse anche quello ha inciso molto sul fatto del suo passaggio a Milano che appunto tanti milanesi vogliono cancellare quella data la riconferma però si sa è sempre più difficile della vittoria effettiva cosa ne pensi su questo aspetto no no hai detto una cosa vera reale non era non era facile riconfermarsi cambiando poi tutti gli americani cambiando Bruce Fowles che aveva fatto una altra madonna CJ Cooper anche lui in altro passaggio inserendo Brewer e l'altro che non mi ricordo chi era era Bryant Wally Bryant Wally Bryant che era un braccio che era praticamente se prendi me prendeci un braccio suo è praticamente spaventosa scusa vai però se lì troviamo ormai la squadra aveva raggiunto una maturità elevata davvero avevamo un organico veramente affiatato Jim Brewer sembrava un campione che aveva già terminato la sua carriera da anni invece si dimostrò veramente quel collante incredibile ad esempio ecco quella partita anche lì partì con 0 su 7 le finali non è che erano 0 su 7 però lì fu bravo ancora primo perché mi lasciò in campo 0 su 7 ma a parte che tutte e due le squadre sentivamo molto questa sfida fu combattimento esatto era Grenoble era abbassata italiana era legione italiana quella ferrata lì quindi la tensione la tagliavi a fette davvero e pensa che Jim Brewer era come dicevo prima un americano che il canestro potevi anche togliere ma che non lo guardava era un grandissimo difensore un grandissimo rimbalzista riempiva l'aria quindi era un giocatore proprio che ti un grande giocatore di squadra quella partita mi ricordo che nei primi minuti lui ci prese per mano fece due canestri dalla lunetta lui che non era tiratore che non tirava mai ma proprio trasmise a tutti noi quella sicurezza quella fiducia quella tranquillità che senza di lui invece avremmo veramente come dire sbandato in maniera paurosa cosa che Milano non riuscì a fare perché per tutta la partita poi noi poi perdiamo assolutamente la concentrazione quando Dino Beneghin commise il quinto fallo noi eravamo anti di 14 15 punti e quindi tutti noi avevamo pensato ok la partita è finita cominciamo a festeggiare e ahimè se dovessimo prendere Franco Boselli che se ricordate a tre secondi dalla fine ha sbagliato quel tiro da 3-4 metri io penso che se prendiamo Franco oggi che forse sono 20 anni che non tocca un pallone gli facciamo fare 10 tiri se non 10 ma 8-9 li realizza quindi è stata lì è stata grandissima vi ricordate la famosa 1-1-3-1 che paralizzò Dampi fu una mossa straordinaria Lucio scusami dimmi tegriamo la domanda perché poi a memoria vado a ricordare che normalmente visto i due stranieri cercavi di comporre l'asse straniera nelle squadre italiane o meno nel generale nella norma si cercava di comporre la vostra forza forse era proprio anche quella che avevate gli esterni tutti italiani amalgamati penso appunto a te a Pigi e a Bariviera o Bosa beh c'era anche dedicarsi con bestioni americani belli atletici guarda sì avevamo un equilibrio noi avevamo modificato anche molto il nostro modo di giocare quando arrivarono Jim Brewer e Wally e anche col cambio di allenatore con Giancarlo I quell'anno pur avendo giustamente come detto una buona batteria di esterni c'era un giocatore chiave noi avevamo Giorgio Cattini perché permetteva di giocare con tre piccoli Cattini poteva giocare con me poteva giocare con Marzonati quindi era un jolly incredibile a seconda di come si metteva la partita e tra l'altro scusami Antonello c'era anche il povero Lupo Denis Innocentin se non vado errato assoluto era anzi quell'anno non vorrei sbagliarmi si era quell'anno Lupo Innocentin perché Bariviera ebbe un infortunio importante al ginocchio Innocentin giocò tutto l'anno come titolare da tre grande crescita grande crescita disputò un'annata incredibile disputò però ecco quando noi dovevamo giocare con un quintetto alto Innocentin era il nostro numero tre oppure se dovevamo essere più veloci abbassava il quintetto e Cattini entrava e giocavamo io Marzonati e Cattini quindi eravamo anche più veloci quindi sì sì quella però quell'anno ecco cercavamo di giocare un pochino più vicino al canestro perché Wally Bryant era veramente un giocatore d'aria poi Jim Brewer poteva segnare solo se era attaccato al canestro sì 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 abbiamo modificato un po' il nostro modo di giocare sugli esterni ma andavamo cercavamo di andare più vicino al canestro rispetto giustamente a Kupec che lui si poteva portare fuori a prendere di più l'aria bravo Kupec era un tiratore straordinario Gab vai tu dai no immaginando che questa prima parte di intervento con Antonello fosse dedicata ai senior perché insomma stiamo parlando di roba bella degli anni 80 90 dobbiamo dire però ai nostri ascoltatori millennials che Antonello ha scavallato pure gli anni 2000 perché ha finito di giocare nel 2005 pensate un po' dove a Rieti allora io gli chiederei eh sì gli chiederei non tanto la differenza fra la sua prima parte di carriera la seconda lui risponderebbe è una questione di fisico perché la mano è rimasta quella ma invece gli chiederei queste ultime esperienze nel 2004 2005 in province più piccole che cosa gli hanno dato cosa gli hanno restituito in termini proprio di atleta di giocatore insomma come è cambiato il basket oltre negli anni 2000 che tu hai vissuto perché ripeto una volta fino al 2005 eri sul parquet tutti i giorni in allenamento e la domenica in partita sì hai detto detto giusto perché guarda io quando prima di trasferirmi i miei avieti erano già due anni che c'era stata la grande apertura no da parte a differenza di quegli anni che stavamo parlando no dell'anteguerra non parlavo dei meravigliosi anni 80 i meravigliosi 80 ragazzi non scherziamo sono stati anni fantastici però erano due c'erano sempre due americani per squadra poi invece tu stai parlando a cavallo degli anni 2000 si cominciavano a vedere addirittura 5 o 6 giocatori stranieri il mio ultimo anno a Cantù io giocai abbastanza poco perché avevamo una squadra veramente forte erano avevamo penso 6 americani o qualcosa del genere e anche lì perdiamo il semifinale ma la terza partita a Cantù io giocai tantissimo segnai anche i 14 punti però ormai avevo capito come hai detto tu anche fisicamente in A1 non potevo più starci non ce la facevo a giocare il basket si era anche velocizzato si giocava a molte velocità già si iniziava di più a giocare il pick and roll insomma era modificato molto il modo di giocare però avevo ancora tanta voglia di giocare infatti disse vabbè vado a divertirmi a Rieti che è in serie B ma ahimè mi sono scontrato che la serie B no guarda ti dico questo particolare prima partita a Montegranaro ah beh poi mi alzo per fare il tiro da mezzo angolo cioè dalla linea Sattonello stai parlando della stai parlando della bombonera a Montegranaro no? Sì bravo ok non so se voi siete mai stato in quella palestra ci siamo stati all'alto scendeva di tutto diciamo così una sorta di fosse delle marianze non solo acqua quindi abbiamo capito insomma scendeva e io allora tranquillamente faccio arresto tiro vado per tirare dalla linea di fondo ma proprio il difensore gli prende il braccio me lo tira giù l'arbitro era a mezzo metro e non fischia nulla e io dico ma dove sono capitato Welcome to Minors no per dire che davvero giocare in Serie B quegli anni sai quando c'era il girone i due gironi era veramente un campionato incredibile quindi però mi sono divertito molto ma c'era Tonino Zorzi che era allenatore tanto per non smentirmi sui grandi allenatori che ho avuto solo che mi tirò il collo il girone d'andata poi il girone di ritorno non ce la facevo più no però ecco l'evoluzione del basket sai il nostro movimento è bello proprio per quello perché non ogni anno però è in continua evoluzione anche le piccole il tiro da tre punti è entrato in vigore dopo le Olimpiadi dell'84 quello ha modificato però oggi i 24 secondi sembrano sembra una scelta cioè un cambiamento piccolo ma ha stravolto completamente è vero è vero tutto il ritmo ma soprattutto siamo diventati cioè siamo diventati il basket è diventato essenzialmente uno sport atletico più che tecnico cioè poi la tecnica ovviamente si affina ma se non hai il fisico adesso per dare su e giù per cioè con dei battiti cardiaci importanti infatti quando io ti dicevo io la mia futura è stata anche quella che non si giocava così veloce perché io stavo in campo 40 quando giocavo poco che ero incazzato perché avevo giocato 36-37 minuti anziché i 40 però oggi è impensabile al ritmo che c'è con la fisicità che c'è stare in campo 40 minuti è praticamente impossibile quindi quei 6 secondi lì ma anche il modo lo so il playmaker vi ricordate i playmaker che c'erano una volta mi viene in mente Ossola che era un po' il ragioniere perché il ritmo che dava ma proprio era impostava il gioco davvero perché diceva no tu sposta ti vieni qui oggi non si ha neanche il tempo di iniziare il gioco perché 8 secondi 10 secondi se va bene sei già lì vicino al canestro basta un pick and roll e un passaggio e ormai devi fare il tiro perché altrimenti perdi la palla per i 24 secondi io invece sempre tornando ai tempi belli io però ovviamente come ti ho raccontato prima di registrare io sono visceralmente legato al primo oro di Nantes fu un campionato europeo spaventosamente incredibile nasce con la gara vinta con l'ultimo tiro di Pierluigi Marzorati contro la Spagna Spagna che si ritrova in finale però io voglio che tu ci raccontassi una volta per tutte cosa è successo realmente l'abbiamo capito l'abbiamo contro la Iugo contro i plavi contro i grandi nemici di sempre e soprattutto cosa avete provato prima di entrare in campo per giocarvi un oro che effettivamente non era sicuro che si portasse a casa perché quella Spagna era una grande Spagna sì per me prima della trasmissione ne parlavamo per me la squadra di Nantes è la squadra perché sono d'accordo c'era un'unione proprio si sono trovati passami il termine i vecchietti che erano i Marzorati i Meneghini Vecchiato Villalta era già anche a metà esatto Gilardi generazione a metà che erano i Gilardi Buonamico insieme poi a alcuni che erano i giovanissimi io mi viene in mente io Ario Costa ma lo stesso Magnifico che però non venne se non vado errato Antonello scusami prima palla palla a te tu vai vai e schiacci subito se non vado errato prima palla è la miseria ma come io ero perché nell'82 la federazione scelse di non partecipare ai mondiali proprio perché Gamba aveva deciso aveva organizzato quattro tornei in Italia con una sperimentale che era a metà strada tra la prima squadra e una squadra sperimentale perché mi ricordo vennero Brunamonti c'era Villalta c'era lo stesso Vecchiato insomma voleva il lungimirante Gamba ha perso ha consumato un'estate per costruire quella squadra che poi avrebbe giocato tutte le campi buon amico buon amico era il quintetto base aveva dietro altri cinque giocatori che potevano tranquillamente perché Marzorati addirittura ce n'erano due perché c'erano Caglieri e una Monti io e Gilardi Gamba poi faceva sempre partire me ma Enrico poteva tranquillamente giocare in quintetto agli piccoli partiva un buon amico Massachetti ci poteva giocare chiamiamo le piccole piccole per modo di dire esatto Villalta era cioè era intoccabile nella posizione di quattro che poi lì c'era Vecchiato che si alternava anche giocava alcuni minuti anche Aranzo Vecchiato ma forse se non Baderrato lui se la giocava con Toyo Ferracini se non Baderrato sì però quell'anno poi Toyo non c'era perché c'era Ario Costa che aveva avuto una grande esplosione quindi per me quella è la squadra senza nulla togliere a tutte le altre però quella che ho vissuto e lì gli Slavi quando avevano capito che quel giorno con noi la dovevano mettere sulla bagarre perché avevano visto che tecnicamente eravamo veramente forti stavamo giocando anche bene avevamo vinto le prime quattro partite quindi però lì ci fu una cosa che buon amico nel primo tempo chiede una una badilata alcuni dicono che lui dice che aveva Kiccianovic aveva sbattuto contro la sua spalla ma effettivamente anche un pugno era partito scusa Ventonello ce la ricordiamo quella Jugoslava che squadra che era con Delipasic con Kiccianovic con Dalipasic Ciosic cioè ragazzi una partita una squadra stellare per quella sì sì però probabilmente era anche come non avevo quella forte motivazione che avevamo noi noi sentivamo proprio che quello poteva essere il nostro campionato poteva essere quella manifestazione quindi passiamo però da quella battaglia di quella di quella lotta lì veramente in pari oh signori signori siamo connessi con Cristiano Garbin buonasera Cristiano però vedo che non è molto connesso vedo che ancora sta assestando scusa Antonello quindi voi entrate in campo ma quindi la consapevolezza di farcela o più la voglia di farcela no eravamo sicuramente conoscevamo la nostra forza però sai quando tu giochi quegli anni gli anni 80 quando c'erano due avversari in Europa Spagna Jugoslavia e la Russia quindi bisognava passare su di loro per arrivare in zona medale senza trascurare poi che la Spagna era sempre pressa poco al nostro livello poi ogni anno ogni manifestazione c'era sempre una nazione che comunque aveva faceva un esplano una volta la Polonia una volta la Grecia la Grecia poi negli anni successivi diventò quindi era più ecco è stata più la grande voglia di portare a casa quella vittoria e noi fumo bravi anche quando scoppiò la famosa rissa a non perdere a non perdere la testa perché sarebbe stato facile lì perdere la testa e gli slavi sai nella bagarre erano dei maestri ritentarono tutte quindi la rissa dimostra che da parte della Jugoslavia le ha provate proprio tutte per portare a casa quella vittoria ma noi eravamo troppo forti sono sempre stati molto smaliziati per dire un termine carino vai vai Lucio intanto non so se Cristiano vado io perché io vado più che altro adesso più che con la domanda con un ricordo perché è un ricordo di Antonello conosciuto nel 2000 a un Valtellina circuit in cui erano in vacanza mi ricordo che erano gli ultimi anni si chiedeva ancora ma cavolo Antonello gioca ancora Antonello gioca ancora me lo ricordo in panchina abbastanza rassegnato per delle prestazioni di Terrence Rancher Marx Reale e Casey Shaw a dire ahia quest'anno mi sa che mi tocca fare gli straordinari ricordo quelle immagini lì di lui eh sì purtroppo sai poi dopo io sono tornato al cantono dopo eh sì dopo sei tornato dopo Gorizia a Pesaro poi sono andato due anni a Gorizia dopo Gorizia sono tornato ancora a Cantù e furono anni difficili perché perché ecco i mezzi finanziari erano veramente ridotti all'osso e anche quindi di conseguenza anche l'organico io non avevo mai giocato per la salvezza quindi è stato penso sia proprio quell'anno lì a cui tu ti riferisci che siamo arrivati proprio all'ultima l'ultima penultima giornata a raggiungere la salvezza sono stati anni poi io ero capitano quindi sono stati anni veramente molto duri e molto difficili per fortuna non ho sporcato la mia carriera con quell'onta della ritocessione Gab Sì no io vorrei proseguire invece con questo sali scendi sali scendi quindi io continuo per i millennials negli anni 2000 dunque lui finisce di giocare Antonello finisce di giocare nel 2005 a Rieti l'abbiamo detto le esperienze della serie B va bene poi capisce che ci può stare ancora in questo mondo che sta diventando sempre più purtroppo lui lo ha detto in tante interviste un mondo di pochi italiani in campo sottolineo però lui vuole essere un DG e lo fa egregiamente con le sue prime esperienze a Veroli e poi a Roma lì voglio arrivare nel 2011 Antonello Riva è il DG della Virtus Roma direbbero delle note sotto traccia ma chi gliel'ha fatto fare ma noi non lo diciamo noi non lo diciamo allora vorrei invece la domanda è ampia te la lascio proprio aperta e ti dico l'esperienza tua nella capitale come DG ti prego non ci raccontare non raccontare ai nostri ascoltatori solo cose belle per favore siamo in fascia siamo in fascia protetta siamo in fascia protetta lasciamo un'oretta dai tra amici che ci divertiamo mi vai a tirare fuori queste chicche qua che diciamo che è stato un anno difficile no voglio dire qualcosa dicela dai qualcosa dicela voglio dire che prima di tutto arrivai a Roma e c'era già c'era già un sacco quasi tutta la squadra sotto contratto volevamo fare un po' di pulizia prima di iniziare ma avevano dei contratti talmente onerosi che tutti volevano restare non ricordiamoci chi c'era prima di te ma se lo ricordiamo ma non lo diciamo prego vai no ma questo non però ecco mi ricordo che con l'Ardo nel creare la squadra abbiamo trovato grosse difficoltà proprio per perché avevamo visto che non era poi così equilibrata però guarda anche quell'anno io sono io vedo sempre con ottimismo ogni esperienza quell'anno se tu non ti ricordi male noi purtroppo stavamo perdemmo Gigi da Tome per il fortuno è restato fuori non sono sbaglio sei o sette partite perché poi quando lui tornò abbiamo avuto una parentesi in cui siamo andati anche bene prima che lui avesse poi un'influenza per dire che tante volte tu giudichi un'annata dal risultato finale però non vai ti ricordi sempre solo del risultato finale ma non vai ad analizzare poi mese dopo mese quello che è avvenuto sicuramente non c'era una situazione idilliaca per poter fare una buona stagione anche se poi con i piccoli particolari forse poteva avere un indirizzo differente ok bene io quindi vado adesso su un discorso un pochettino più dopo che abbiamo sviscerato i grandi successi in maglia canturina qualcosa con Milano e la maglia azzurra il basket di oggi Antonello allora dacci una tua visione su come si potrebbe pensare di ricondurre il nostro basket su una dimensione non più italiana perché sembra un po' un po' un po' inflazionata questa frase però forse è giunto il momento di dare un po' più importanza ai nostri vivai come prima voi mi fate delle domande che sono basi di argomenti da discutere per giornate intere il discorso sarebbe veramente lungo però effettivamente passi da da un punto importantissimo quello dei nostri vivai è sempre più facile criticare che invece essere propositivo però bisogna trovare qualcosa per premiare ancora di più chi lavora sul vivai perché oggi effettivamente abbiamo pochi italiani li vediamo ma anche perché le società non hanno più interesse a investire e a così tanti soldi sui giovani italiani quando tu puoi andarti a prenderti da qualsiasi parte europea un giocatore pagarlo anche relativamente poco e metterlo subito in squadra quindi bisognerebbe trovare ecco so che lo sapete ci sono questi premi che oggi è discretamente anche vantaggioso investire sui giovani ma non ma è un discorso che poi devi portare avanti per anni per avere poi un ritorno importante io vado controcorrente perché si è visto che non ha mai portato dei risultati positivi però io passerei dal fatto di obbligare a ogni momento della partita avere due giocatori in campo forse quello spingerebbe le squadre le società a lavorare sui italiani perché quanto meno devi avere quattro giocatori competitivi in squadra per poter avere questa cosa lo so che è molto non è facile non è facile perché comunque esatto però oggi dobbiamo dobbiamo passare da da un qualcosa di molto difficile da attuare per poter ricreare una certa atmosfera attorno al nostro movimento io avevo intenzione di dare spazio a Cristiano Garbin che però evidentemente sta avendo dei problemi di connessione entra esce entra esce quindi aspettiamo e quindi ridò la parola a Luciano Pizzi si guardi direttore non saprei neanche cosa ricordare perché è talmente ampia la carriera di Antonello nonostante fatta principalmente di due squadre e di tante vittorie che comunque ricordarsi le cose è sempre un po' dura voglio dare un pensiero più che altro al suo compagno di squadra a quello che l'ha portato anche lì visto che è abbastanza più vecchio forse nove anni differenza circa dovrebbe essere con il PG maggiorato dieci anni esatti dieci anni esatti dieci anni esatti è possibile è forse un po' stata la tua chioccia cestistica no assolutamente sì questa è stata una delle mie più grandi fortune perché più entrai in squadra a Cantù cominciai a respirare la prima squadra quando a Cantù c'erano giocatori come Marzorati che sappiamo ha giocato sempre Marzorati Recalcati della Fiori Meneghel cioè era una squadra con l'annatore Taurisano che credeva molto e basava molto la la costruzione della squadra proprio sul lavoro quindi io vengo poi da una terra dall'abrianza dove il lavoro è proprio dentro ognuno di noi bisogna lavorare bisogna lavorare però loro mi indirizzarono sulla giusta strada sulla strada per essere per arrivare ad essere campioni Marzorati poi è stato con me sempre e quindi quei primi anni quei dieci quella prima fase della mia carriera è stato fondamentale nel prepararmi a ogni cosa che avrei trovato davanti a me qualsiasi ostacolo qualsiasi situazione me l'anticipava in modo che io la potessi vivere già preparato diamo spazio a Cristiano se riesci a dare un cenno forse la tua connessione oggi non è straordinaria temo Cristiano con questa faccia un po' inquietante tra l'altro con questa faccia e Gab vai tu sì allora proseguendo sempre sulla falsariga degli anni 2000 dove abbiamo conosciuto Antonello valido anche come manager e come DG succede che a un certo punto anche lui diventa un senior che vuol dire che siccome non aveva vinto abbastanza da junior lui nel 2008 va a vincersi il campionato europeo over 45 allora qui noi ad Antonello vogliamo sapere che diavolo è successo non ti eri stancato di vincere e quindi dici tu no guarda lì ci sono state due componenti una il fatto di tornare a Pesaro perché avevo mantenuto un ricordo bellissimo di due anni giocati lì quindi questo campionato si giocava a Pesaro io ero ancora in forma e poi perché appunto Bucci un giorno mi chiamò e mi disse guarda non sei venuto a giocare con me nella tua carriera a Verona sei obbligato a venire a giocare mi ha detto no ma guarda che io non ce la faccio alle mie ginocchia gli dissi mille scuse per cercare di evitare questa cosa allora alla fine mi disse Antonello vieni e ti faccio giocare solo la semifinale e la finale quindi non avrai allora no fu una bella esperienza perché conobbi proprio da vicino Bucci Alberto Bucci e fu per me veramente una cosa che servo ancora dentro il mio cuore però ecco pensavo di andare di fare il soldi sai la partitella così a parte Bucci che era una cosa cioè allenava ancora con maggiore intensità rispetto e poi anche le due partite non furono due partite così semplici anzi botte dalla miselia il ritmo alto quindi niente male fu divertente è un'esperienza che naturalmente ricordo con grande piacere io io proverai a dare parola a Cristiano che adesso non si vede più si vede solo il soffitto adesso si vede oh finalmente Cristiano non ti sentiamo però non si sente accendi il microfono accendi il microfono non si sente come dicono a Roma c'è il microfono spento per quello e però il microfono accendi il microfono accendi il microfono Cristiano eh vabbè come si suol dire noi volevamo sguardo l'indirizzo eh vabbè eh vabbè se non si ecco ok non si sente niente non si sente niente e siamo un pochettino sfortunati oggi con questa connessione Cristiano parla un po' Cristiano attacca bene Jack non si sente no 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 non va bene eh dai eh purtroppo vorrà dire che riconvocheremo Antonello Riva fra qualche mese ah gli mandiamo le sue gli mandiamo le sue domande via mail va bene va bene a vostra disposizione senti Antonello a questo punto insomma siamo stati anche direi sufficientemente eh da lungo io ti ringrazio eh prima di tutto prima di saluta eh Cristiano se ci sei batti un colpo no eh ma non sentiamo eh ma non sentiamo direttore direttore vai Gab no volevo chiedere una cosa ma una curiosità mia personale ad Antonello e molti sanno adesso che Antonello performa anche fuori dal basket perché perché lui si è improvvisato e molto bene devo dire visti i numeri del primo anno e del secondo anno si è improvvisato imprenditore adesso cosa voglio dire ehm lui continua da quello che so tramite fonti che non posso rivelare continua ad allenarsi in questo senso ad allenare i suoi ex compagni perché sono diventati i suoi clienti allora ci vuoi raccontare qualcosa come hai fatto a fare 3 milioni di euro di fatturato il primo anno con questa tua attività imprenditoriale magari se non vuoi fare nomi va bene però se ci vuoi raccontare quello che tocchi diventa oro insomma diccelo pure a noi e beh siamo pure ah cacchio questo vedi Gabriele che è andato a informarsi dappertutto e anche questa sua indole giornalistica no eh devo dire che io ho sempre tenuto il mio fisico e quindi mi è piaciuta questa azienda che tratta prodotti proprio per il benessere e vuoi per la bontà del prodotto vuoi per il fatto che le persone mi stanno ad ascoltare perché eh quello che ho trasmesso tutta la mia carriera questa onestà questa trasparenza questa chiarezza e poi soprattutto questa cosa che eh naturalmente stiamo parlando di un commercio con il network marketing e quindi nel network marketing devi costruire una squadra quindi l'esperienza di da atleta e da dirigente mi ha permesso di avere un background e di costruire di avere questa questa sensibilità nel costruire un team che sta andando molto bene proprio perché eh lo sai no quando tutte le componenti vanno a posto i risultati sono più facili da raggiungere mi sentite tante volte tante volte non basta soltanto un buon prodotto da da mostrare da presentare da commercializzare da provare su se stessi tante volte come hai detto tu se non si fa gioco di squadra il prodotto migliore del mondo ti rimane in mano vero esatto esatto sì questo sistema di commercio effettivamente sì il prodotto ha una buona importanza ma il fatto di essere un team di lavorare assieme da quel surplus che è indispensabile allora sento che Cristiano forse è riuscito mi hai sentito adesso sì ma non ti vediamo va bene mi sentiate allora siamo in una fase proprio conclusiva se vuoi fare allora ti facciamo allora noi abbiamo già già ripercorsi in grandissima parte tutto lo scipile che puoi immaginare sconnoto dell'oriva però giustamente chiudi tu con un paio di domande dai vai ma la prima che mi viene in mente è di spiegarci un attimino il clamoroso trasferimento da Cantù a Milano davvero non so se gliela ha già chiesto ma abbiamo già chiesto eh vabbè era scontata che lui se gliela ha chiesto poi dopo che cosa gli volevo di chiedere niente l'esperienza milanese un bilancio no guarda Milano sapete una finale poi una quella Coppa Corag vinta contro Roma è per quello che non me l'avete chiesto il direttore non mi ha chiesto per quello non posso fare con il direttore io rimangono rimpianti cinque anni l'abbiamo detto prima cinque anni incredibili molto intensi potevano potevano essere un pochino più fortunati e proseguire un po' più là nel tempo purtroppo i risultati legati soprattutto anche a degli infortuni non ci hanno permesso di avere una lunga durata potevamo andare avanti ancora veramente quattro o cinque anni con quel gruppo purtroppo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo fatta proprio per mancanza di risultati però tornando indietro Antonello tornareste a Milano o fareste altre scelte assolutamente sì assolutamente sì scelta da farsi senza ombra di doppio intanto squilla un telefono non so mi sembra di intuire che sia quello di Cristiano ma non importa Cristiano allora io direi vai vai no no ma non è mio non è tuo questo è bellissimo questo Cristiano scusami tanto Cristiano è il bello della diretta rietcomi qua è il bello della diretta no beh insomma io direi di congedarci a questo punto ultimissima me la concedi certo Cristiano se non ha un piccolo rimpianto per non essere magari nato in questi anni dove sicuramente sarebbe stato papabile per la squadra NBA ma guarda hai ragione un rimpianto può essere quello però nell'84 disputai una grande olimpiadi a Los Angeles poi votato il migliore in tetto fu invitato dai Golden State nel training camp dell'anno successivo però a parte il fatto che poi nell'85 nell'inverno nel campionato successivo ho avuto un grave infortunio al ginocchio ma poi c'è da dire che non avevo in quei anni se tu noi eravamo dilettanti eravamo ricordati dilettanti nel nostro campionato quindi se andavi a giocare in NBA acquisivi la figura di professionista questo ti toglieva la possibilità di giocare con la nazionale quindi quella era già una scelta addirittura se poi tu tornavi a giocare nel campionato italiano eri considerato straniero quindi era una scelta difficile effettivamente un rimpianto quello ce l'ho vedendolo che poi anche il mondo dei professionisti americani in quegli anni prima dell'avvento dei Dicucos Divas Sabonis ci guardava l'Europa con un po' un po' di puzza sotto al naso poi dopo hanno scoperto e capito che gli europei erano giocatori molto interessanti e invece in un grande club europeo Real Madrid sempre no no è vero questo fatto del rimpiango un pochino ecco di non aver avuto questa possibilità di avere la libertà di movimento che c'è oggi questo è fuori di dubbio certo beh insomma comunque direi che Nembo Kid avrebbe fatto sfraccelli un po' direi direi dappertutto allora signori noi ringraziamo sicuramente Antonello ma prima di tutto saluto in parole non in visione Cristiano Garbin ciao Cristiano ciao a tutti grazie per il cammino siamo stati un po' sfortunati con la connessione un saluto a te Luciano Pizzi buonasera a te direttore Antonello Gab Cri e a tutti i quelli che ci ascoltano una buona serata a te Gabriele col pallone sempre che non può mai mancare quando tu chiudi le nostre trasmissioni un saluto a te direttore grazie per l'opportunità e un saluto al nostro splendido ospite che aspettiamo di vedere a Covid finito a Roma quando vieni anche per le tue cose da imprenditori ci mancherebbe e soprattutto grazie buona buona serata ed è stato un onore sentire e conoscere anche se virtualmente un grande personaggio come appunto Antonello Riva speriamo di rivederci fisicamente presto Antonello grazie grazie è stato piacevole stare con voi buona serata buona serata a tutti ragazzi ciao salve ci vediamo alla prossima